Avevano appena acquistato dei vasetti di vetro con la cognata e quasi estate pensavano alla conserva di pomodoro. Tutto è accaduto in un attimo a tombelle di Saonare in via Vigonovese. Erano le 18, Fiorella Chigliaro, 73 anni, residente nella frazione di Villatora con il marito e i tre figli, stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto, una Iaris condotta da un 64 anni di Santa Maria di Sala nel Veneziano che stava uscendo dal parcheggio della chiesa. Solo toccata la cognata, investita in pieno Fiorella Chigliaro, il cui corpo è stato liberato dai rottami, dai vigili del fuoco. Inutile ogni tentativo di soccorso per la 73 anni e non c'è stato nulla da fare. Grande il cordoglio nel comune. Ci dispiace tantissimo per questa famiglia come amministrazione comunale, come sindaco, ma anche come comunità di Villatora alla quale la famiglia apparteneva siamo veramente vicini. Le indagini sull'incidente sono condotte dalla polizia locale che sta esaminando le telecamere presenti lungo via Vigonovese. Un'auto che sopraggiungeva dal centro cittadino si era fermata per lasciar passare le due donne. Forse la visuale del conducente della Iaris è stata coperta. L'uomo, sottoposto dal coltest, è risultato negativo. Resta il dolore per la perdita di una donna, moglie e madre di famiglia che probabilmente a quell'ora pensava a tornare a casa il più presto per preparare la cena.